Sono Douglas Gattini e sono qui per confermarvi il seminario lo shatsu e il trattamento specifico sulle 12 grandi articolazioni. Qual è il beneficio di questa disciplina alla cosso femorale, alla scapola omerale, al ginocchio, al gomito, al polso e alla caviglia? Trattamenti specifici che tengono in considerazione anche la struttura olistica dell'intero corpo, sia fisico che energetico, nella loro relazione con la schiena e col movimento nello spazio. Seminario, shatsu e le 12 grandi articolazioni. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!